Siamo nella splendida calla di Torrencina in territorio di Monopoli, anzi no, di quel di Polignano a mare. Abbiamo scoperto in realtà che una parte di quella località ricade nel comune di Monopoli. Torrencina appartiene a chi? A Polignano o a Monopoli? No, guardi, appartiene a Polignano. Qui da qualche mese sono apparsi cartelli di divieto di balneazione imposti dal comune di Monopoli. Non perché il mare sia inquinato, si va di bene, piuttosto è vietato transitare per rischio di sesso idrogeologico delle grotte che punteggiano il litorale monopolitano, un'ottantina i cartelli affissi da nord a sud. Vi è un provvedimento che è stato sollecitato a De Mani della Capitaneria di messa in sicurezza, evitando l'accesso di pedoni in aree dove c'è il rischio di crollo di alcune grotte. Il bagno quindi si può fare a Monopoli? Ovviamente, anzi, chi non l'ha ancora fatto lo invito a farlo. Cartelli che Monopoli non poteva mettere spiegano da Polignano perché Torrencina è nostra e da noi non si parla per ora di rischi. Già, ma chi appartiene Torrencina? Una battaglia iniziata nel lontano 78. Negli ultimi tempi Polignano ha scritto in vano a Monopoli chiedendo un tavolo tecnico per definire i confini, visto che tra l'altro continua a farsi carico della pulizia della lama, che quella sì ricade sul territorio monopolitano, ma fino al costone. Dopodiché la proprietà cambierebbe, secondo le carte, in un percorso dove i metri contano. E nella diacente spiaggia libera il bagno si può fare. Per quanto riguarda il territorio di Polignano non risulta una relazione di tecnici dove appunto c'è pericolo. Peraltro, aggiungono dal comune di Polignano, sotto il costone su cui è retta la torre ci sono i casotti dei pescatori, sequestrati e poi dissequestrati, quindi accessibili. E allora che fare? E sulla questione di Torrencina come se ne esce? Ah non lo so, adesso vedremo. Abbiamo un nuovo condominio col sindaco di Polignano. Anche le stesse acque? Quello già sapevamo che erano unite, non c'era una linea di demarcazione. In questa caletta basta spostarsi di qualche metro e il bagno si potrà fare. Esatto, praticamente sì. Per ora quel cartello città di Monopoli non è gradito e sarà tolto da Polignano.